Il pranzo di oggi, amici, sarà roast beef, roast beef, quello da gastronomia, patate fatti con la buccia e 6 uova, amici, 6 uova perché mi è successo l'incidente, guardate, tutto bagnato, dovevo dare 6 uova, tutto bagnato, vedete, tutto bagnato perché mi è andata via acqua, non lo so, in frigo, e tutto assorbito di questa acqua. O va, si conservano male, allora a questo punto basta, spengo e ci vediamo a pranzo. Ecco, cosa si mangia quando è caldo caldo, amici, un po' di olio, guardate, basta, perché è 38 gradi, c'è umidità, amici, c'è grande umidità e si mangia così tanta verdura con aceto pochino, due patate, come ha detto, e questo qua un pochino rimasto in frigo roast beef, ma quello già pronto da gastronomia, che fanno a fette, così. E pesche non devono mancare perché devo comprare ancora pesche. No, frutta, tanta frutta devo comprare. Buon appetito a tutti, amici, vino non si beve, stasera vino. Amici, 38 gradi, 38 sottopino, questo c'è mia macchina qui, vedete, calcolato ieri sera bene bene per lasciare studiato dove c'è ombra. Macchina sporca, sporchissima. Io ora vado, vado da, prendere Giada, e vado a prendere una mia amica, Angela, e andiamo al centro commerciale. Dobbiamo scappare da tutto caldo che c'è. Io per Angela ho presa magliette. Aspetta, ora faccio vedere. E sempre corro, corro, c'è tre magliette molto belli, però ora non vi faccio vedere. Questa e questa. E come faccio vedere? Dopo vi faccio vedere. Marca è questa, è due uguali, gialla è uguale come questa qua, marca è questa. Io sono stata, per me corta, marca è questa, amici. Conoscete? Nirvana, marca molto famosa, diciamo ce l'ha qui corto. Davanti si chiude in questo modo così, vedete? Indietro, pochino più corta, davanti più lunga, e si chiude così. E gialla è uguale, 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 narvana. Perché poi c'è anche, anche un'altra bianca. Ma ora non vi faccio vedere, devo, perché sono già in ritardo, amici. Devo sistemare ora un pochino macchina ancora. Dovevi buttare? Ah, questa è bella, molto bella. Meno male che non mi ho comparato altri. Hai visto? Bella, colore bello, aperta, vedi dove c'è goglia, collo, aperta bene, e davanti si chiude così. Due uguali, guarda. Bellissimi. Grazie. Vedo, vero moderna? Sì. Nirvana, questa marca, te non conosci Nirvana? No. Un negozio buono. Belli, bellissimi sono. Questa qua, che io mai, 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 non sono mai messa. Anche questa, anche questa è bellissima. Guarda che tessuto, ti guardi marca Gaudi. Bellissima, bellissima. Ti guardi internet Gaudi, questa è costosa, eh. Il tessuto, guarda come, fine, 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 fine. Cotone finissimo, aperta. Bellissimi. Mai usato. Grazie mille. Perché sono contenta quando uno usa e sarà contento. No, no, è bellissima, è bellissima. Vedi, aperta, larga, non ti stringi, libera, lunga, perfetta. Belle sono. Guarda queste proprio. Mi piacciono. Vero? Sì. Vero moderna. Mi piacciono, grazie mille. Non è che qualsiasi cosa ti porto. Poi ti porto ancora, eh, ce l'ho tanti ancora, veramente. Andiamo perché è già tardi. Giada, sei buona, cintura ci vuole, Giada. Mamma mia, come è caldo, 37 gradi. Giada, cintura. Aspetta, ti mi... Avanti. Avanti. Gelato e caffè. Si confumero, 350. Io non voglio proprio niente di niente. Al massimo caffè andiamo a prendere. Gelato da noi. No. No, 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 troppo zucchero. Andiamo a prendere di là, oh, qui si prende, caffè normale, sì. Cofi. Colori belli, 12 euro, vero? 13 euro. So, no, 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 no. Questa qua per te, questo, bello. Bess. Saldi cominciati. Questa è nuova, questa nuova collezione senza saldi. Questa è prima acqua. Il caffè questo qua? Che piazza, pensavo che il caffè è molto buono. E tu crema e il tuo yogurt. Adesso mi fottograffi. Sfottograffi me. Ah, a te? Ok. Con una mano, va bene così? Sì, sorridi bene. Testa più giù. Un'altra foto, aspetta. Prendi nel mano il bicchiere, brava, alza di più, alza, alza, alza. Mano qua. Che fa passaggio a noi? Sorridi. Ancora? Così. Brava Angela. Ora mi alzo perché io sono un fotografo. Così viene bene. Dai. Ok. Da vicino. Dai già le nostre cartosche. Sorridi forte, forte, forte. Devi sorridere molto forte. No. Così viene bene. Mmm. Ti è piaciuto? Mmm. Guarda, tu il panino. Tieni. Guarda. Che ce l'hai sul panino, eh? Apri. Oh. Ma mamma ha preparato per te. Dai, dai, dai. Apri. Vediamo che panino è. Giada. Con salame. Non aspettavi? Che c'è? Non vuoi mangiare? Per te? Oh. Finalmente. Pensate che non ha fame. Mmm. Va bene. Gramella. Mmm. Va bene. Mmm. Buono? Yogurt buono perché è abbastanza fresco. Mmm. Molto dolce. Molto dolce. Mmm. Molto dolce. Ho pensato questo yogurt è più naturale. Acido. 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 Ma non è acido. Un po' dolce. Però meglio di gelato, eh? Meglio di gelato però questa granella al caffè. non mi piace. Ho pensato altro caffè. Mi danno un caffè quello vero, liquido. Quello sopra, ma niente. Giada per la prima volta non vuole mangiare. Giada, te vuoi dolce mangiare? Come mangiamo noi? Mamma mia. Bisogna andare a prendere un altro cucchiaio. Per dare a lei un pochino questo dolce qua. Che forse lei capisce che noi mangiamo dolce e lei no. Mi puoi dare un cucchiaio, per favore? Grazie. Qualche le volevi? Grazie. Cucchiaio Giada. Oh. Guarda qui. Amore. Tieni. Per prima volta lei non vuole mangiare panino. Per la prima volta. Forse capisci? Giada. Giada. Giada mangi. Oh. È buono vero Giada? Un cucchiaio a me e poi basta. Tutto il resto te. Oh. Basta. Dai. Per la prima volta che lei non vuole mangiare questo qua. Forse capisci qualcosa che noi mangiamo un gelato e a lei no. è buona, è buona, è brava, buona, tranquilla. Amici siamo già qua nella nostra zona, abbiamo accompagnato mia amica a casa, andata a casa e ora noi con Giada ancora camminiamo qua. Io ho regalato a mia amica che si chiama, torniamo di qua, Giada che è meglio, magliette diversi, lei molto apprezzato e piace a lei, io ho tantissime magliette, qualcuno mi ha scritto nei commenti, Anna ora ci sono saldi, te rinnovi tutto abbigliamento, non rinnovo niente perché non compro proprio niente. Sono diventata minimalista e mi piace avere 3-4 magliette, lascio quelli che mi piacciono e tutto il resto via. Questo anno non compro proprio niente, niente, niente. Qualcosa, qualcosa per casa posso comprare, mi servono diverse cose, bello copriletto mi serve. Seguite il mio canale perché ora deve arrivare il letto nuovo, matrasso nuovo e faccio vedere anche come ho scelto io, perché tanti mesi abbiamo scelto. Camera non c'era, non era ancora pronta, abbiamo aspettato tanti mesi diversi e ora finalmente arriva. Seguite vi faccio vedere il letto che abbiamo ordinato. letto con tinitore. Giada, non ti arrabbiare. Oggi non voleva mangiare con noi né gelato, no gelato era yogurt. Yogurt, non voleva nemmeno panino con prosciutto, non voleva. Io non so che è successo. Nella prima volta Giada. Dai, torniamo indietro, andiamo di qua dove c'è ombrosa. ombra c'è perché da noi c'è caldo. C'è caldo, in centro commerciale si stava bene. Con questo vi saluto, arrivederci, saluto tutti. Un abbraccio e grazie e buongiorno. Pace in Ucraina, quello importante che deve arrivare pace prima possibile. A presto amici. Sei vicina di Giada, vero? Giada, te oggi è senza umore, vero? Andiamo perché c'è gattina qua, guardate come è bello. Questa è la zona di Giada. Questa è la zona di Giada.